Siamo con Giancarlo del Punto D e oggi in piazza, come mai insieme a tanti altri, cosa sta succedendo nel Comune di Alessandria, all'Aspal, al Punto D e servizi in forma giovani? Sono chiusi a tempo indeterminato tutti i servizi offerti da Aspal, che è una società partecipata al 100% del Comune, nel momento che non ci sono più risorse a destinare a questa azienda, non ci sono neanche più le risorse per aprire i servizi. Questo è il dramma di una città che vive purtroppo a sprazzi di una grossa crisi in tutte le società partecipate. La questione non è soltanto di Aspal o della legittimità e legittimità di costruire insieme, qui si tratta della città, si tratta di servizi di trasporto, quindi ATM, si tratta di servizi come l'ANU, servizi tutti importanti per la città, tutti che fanno parte della funzione pubblica del Comune di Alessandria e sono i servizi per cui la gente paga le tasse.